Presidente, noi abbiamo avuto tre anni di grande sofferenza per le imprese, per le aziende italiane legate alla pandemia, ricordiamo tutti quanti, lei se lo ricorda benissimo, le immagini dei ristoranti, dei bar chiusi, sbarrati, degli alberghi, diciamo delle merci che stentavano a circolare, cioè sono state immagini che ci sembrano lontanissime nel tempo ma sono di poco tempo fa. Poi è arrivata questa mazzata del gas, del rincaro dei prezzi energetici cominciato già prima della guerra ma che con la guerra ha avuto una crescita esponenziale, oggi c'è un'incidenza a volte anche del 30% delle aziende per il costo delle energie e molte non riescono più a produrre perché diventa antieconomico fare i prodotti se bisogna pagare tanto di energia. Non è una vera e propria emergenza nazionale, quando Calenda dice sospendiamo, mettiamoci al tavolo, quando Salvini e Lameloni dicono mettiamoci, siamo pronti a intervenire immediatamente, voi siete pronti a fare qualcosa subito? Ma direttore, ma stiamo prendendo in giro gli italiani perché siamo in campagna elettorale? Ma cos'è? Noi ci dobbiamo mettere intorno a un tavolo a discutere di cosa? Ma noi da febbraio o marzo, io ho fatto un'intervista al Corriere della Sera, il 26 febbraio, occorre un intervento europeo, un Energy Recovery Fund. Due giorni fa il Fondo Monetario Internazionale ha detto che l'unica via d'uscita è un Energy Recovery Fund. Possiamo pure fare le riunioni, possiamo pure ritrovarci a scambiare delle opinioni, ma è chiaro che qui la cosa veramente brutta di questa vicenda, di questa nuova emergenza è che non abbiamo la classe politica, ma dicono solo italiana, anche quella europea, non ha tratto nessuna lezione dalla vicenda pandemica. Allora a noi ci ha salvato soltanto costo, è una reazione tempestiva, perché se ricorderà, esplosa così a febbraio o poi marzo, a luglio avevamo già Next Generation EU approvato dopo quattro giorni di negoziato durissimo al Consiglio europeo, 2020. Oggi, che noi dovevamo fare tesoro di quell'esperienza, abbiamo un governo che non è stato altrettanto determinato e coraggioso. L'unica soluzione in Europa a monte, perché a valle se interveniamo non basteranno miliardi, è come in una barca che si riempie d'acqua col cestello, noi butteremo miliardi su miliardi, dobbiamo intervenire a monte, in Europa, strategia comune, soprattutto piano di acquisto comune del gas, stuccaggi comuni. Presidente, ma lei non ritiene che sull'energia noi paghiamo alcuni errori del passato, cioè non aver fatto in tempo debito alcune cose, per esempio la rinuncia al nucleare, salvo poi comprare l'energia nucleare dai francesi per produrre elettricità, la lentezza anche della cosiddetta energia rinnovabile, perché oggi comunque mettere pareoliche, passare all'energia solare comporta sforzi burocratici enormi. Lei non ritiene che noi paghiamo quello che non è stato fatto negli anni passati? Allora, sicuramente paghiamo un prezzo di una carenza di visione strategica, di una politica energetica. Però direttore, solo parzialmente sono d'accordo con lei. Quando lei dice che paghiamo un notevole ritardo per quanto riguarda l'investimento massiccio nelle rinnovabili, che è il futuro, sono pienamente d'accordo. È per questo che ci stiamo battendo per l'efficientamento energetico. Però io volevo dire che le rinnovabili non basta teorizzarle, poi bisogna che quando vuoi mettere i pannelli solari, chi deve decidere ti dia una risposta in una settimana. Ma assolutamente. Però adesso abbiamo fatto degli interventi e continueremo a farli e diciamo il quadro normativo si è un po' sburocratizzato, dobbiamo continuare, attenzione. Ma soprattutto adesso la prospettiva, il nostro progetto, al centro del nostro progetto ci sono le comunità energetiche. I cittadini, i condomini, unità abitative autonome si pongono in collegamento tra loro, impianto fotovoltaico condiviso, diventano produttori di energia. Taglio dei costi, pensi, non solo l'energia è pulita da fonti rinnovabili, taglio dei costi. Io ho girato le comunità energetiche fino al 40, anche 45 per cento su tutte le bollette, un taglio strutturale. Sul nucleare, faccio un'osservazione però, direttore, a parte i due referendum, per cui ci sono stati i cittadini e la volontà dei cittadini l'ultimo 2011... Però siamo circondati ai nostri confini di centrale nucleare. Non per questo creiamo ulteriori rischi, perché siamo circondati da zone a rischio se la mette su questo piano. Ma il tema è un altro, parliamo di fatti concreti. Le ultime, quando Berlusconi fece l'accordo con Sarkozy per costruire delle centrali nucleari, allora noi abbiamo gli esempi concreti. L'ultima nel 2022 l'hanno completata in Finlandia. Hanno impiegato 12 anni. Areva, la proprietaria della tecnologia, è fallita. L'altra in Francia, l'ultima che hanno costruito, un buco di 19 miliardi. Se avessimo abbracciato quella prospettiva non è vero che avremmo risolto i problemi. Quattro centrali, quelle programmate, avrebbero prodotto quattro buchi da 19 miliardi ciascuno. EDF si è trovata con un buco, l'ultimo in Francia, appunto, di 19 miliardi. Quindi, attenzione, se parliamo di una energia nucleare di nuova generazione, come spesso si sente dire, allora noi parliamo di quarta generazione. Gli scienziati ci dicono che fra una quindicina d'anni, vent'anni avremo una tecnologia applicata. Io dico continuiamo a investire. Noi siamo fortemente innovatori come Movimento 5 Stelle. Investiamo nella ricerca. Quando poi avremo la tecnologia a disposizione nuova, vedremo quanto costa, vedremo le scorie, se e come, che periodo ci saranno di smaltimento, vedremo tutta una valutazione complessiva con i cittadini e faremo le nostre scelte. Questo è ciò in cui crediamo. Questo è ciò che siamo. Grazie. 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 Grazie.